Buongiorno professore, buongiorno Luca, grazie della tua partecipazione, per noi come sai preziosissima. Ringrazio nuovamente il direttore generale del Ministero del Lavoro, appunto della direzione generale terzo settore responsabilità sociale delle imprese per la presenza, per la partecipazione. Io ovviamente mi fermo subito, sono già stato oltremodo lungo e ho cercato ovviamente di chiudere anche con questo passaggio sulle reti associative. Io credo che questo sia veramente al di là degli aspetti importanti e su cui ovviamente il direttore interverrà, normativi fondamentali. Credo che lì ci sia veramente l'essenza del nostro futuro, l'essenza del nostro impegno civico per continuare a traguardare gli obiettivi solidi del nostro statuto, ma soprattutto essere sempre più efficaci. Io credo che quest'ulteriore responsabilità, ma soprattutto queste grandi nuove opportunità, si vadano veramente ad inserire in quel percorso che abbiamo richiamato ieri nella tavola rotonda e che ho cercato di riprendere questa mattina nella mia relazione introduttiva di una vera e propria grande associazione di promozione sociale, ente di promozione sportivo, rete associativa nazionale, per veramente arrivare a una vera e propria emancipazione dello sport sociale, che mettiamo a disposizione ovviamente dei nostri soci, ma abbiamo l'ambizione, come dire, di anche traguardare i confini, i perimetri associativi e di mettere a disposizione dell'intero paese in un momento storico così delicato. Grazie direttore, mi permetto di dire grazie Alessandro, grazie anche per la tua amicizia. Buongiorno, innanzitutto grazie caro Tiziano per l'invito e soprattutto per aver voluto costruire questo momento di riflessione poi con l'amico, con il professor Gori, sul tema della rete associativa che oltretutto hai evocato in più parti e in diversi significativi passaggi della tua relazione di qualche minuto fa. Credo che oggi possiamo sicuramente, arrivati al mese di marzo del 2023, possiamo fare una riflessione un po' più matura, aggiungerei anche un po' più consapevole di quella che è lo sviluppo, di quella che è la posizione e il ruolo delle reti associative all'interno del nostro quadro normativo definito nel Codice del Terzo Settore. Codice del Terzo Settore che ha avuto questa portata innovativa proprio con riferimento alle reti associative. Il dato giuridico ha, come dire, tradotto in termini regolatori quello che era un fenomeno che la realtà organizzativa, la realtà sociale aveva manifestato, vale a dire la rete associativa, vale a dire questo soggetto aggregatore di diverse organizzazioni e a cui sono state attribuite delle funzioni ben specifiche di monitoraggio, controllo, promozione, rappresentanza, coordinamento. Ora, sembrano, nel momento in cui noi andiamo a leggere queste previsioni, andiamo a leggere la norma, l'articolo 41 del Codice, sembrano delle affermazioni teoriche, delle affermazioni astratte. Oggi, dicevamo, possiamo sicuramente fare un ragionamento più approfondito perché nel frattempo ci sono stati dei passaggi fondamentali nell'applicazione della riforma. Allora, se il primo snodo, il primo momento fondamentale è stato costituito appunto dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, che quindi ha individuato la rete associativa come una particolare categoria di ente del Terzo Settore, alla quale è riconnessa poi una specifica sezione del registro unico del RUNSA ad essa dedicata, il secondo passaggio fondamentale è stato quello dell'avvio del registro unico nazionale, che si è verificato appunto a partire dal 23 novembre del 2021. Questo perché? Perché ci ha permesso di passare da quella che era la fase di produzione normativa alla fase in cui quel diritto del Terzo Settore, contenuto nel Codice, che poi si è sviluppato attraverso i provvedimenti attuativi, dello stesso ha cominciato a trovare una concreta applicazione. Due passaggi nodali, due snodi, all'interno dei quali poi la rete associativa, il concetto di rete associativa, si è poi calato e si è appunto ha cominciato ad assumere una forma concreta. Una forma concreta che innanzitutto troviamo nel popolamento della sezione del RUNSA. Ad oggi, infatti, assieme alla WISP, fanno parte della sezione reti associative altre 30 organizzazioni. Quindi il meccanismo si è messo in moto e naturalmente riteniamo abbastanza ragionevole che nel prosieguo questa sezione continuerà ad essere arricchita dall'ingresso di ulteriori organizzazioni. Ma io vorrei anche evidenziare come il tema della rete associativa abbia poi trovato una sua concreta applicazione su diversi profili. con riguardo a diversi momenti e fasi. Innanzitutto ricordiamo come sin dall'inizio stiamo ragionando del 2018, quando viene costituito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, la prima consigliatura, quella che si è sviluppata nel primo triennio. Ecco, il Consiglio del Consiglio Nazionale fanno parte anche rappresentanti delle reti associative. In quel caso, nel 2018, la costruzione della composizione del Consiglio Nazionale fu fatta muovendo dal dato esperienziale, dal dato fattuale. Nella nuova consigliatura, quella del successivo triennio 2021-2024, ad esempio, abbiamo avuto la possibilità a quel punto di fare, come dire, una vera e propria raccolta di manifestazioni di interesse dei soggetti che, rispondendo ai requisiti numerici previsti dal codice, anche se non ancora iscritti nel RUNS, aspiravano ad entrare a far parte del Consiglio Nazionale. La presenza della rete associativa all'interno del Consiglio Nazionale del Terzo Settore non è una presenza meramente formale. Questo perché quest'organo, quest'organo consultivo, è stato, come dire, sia nella precedente consigliatura, sia nella nuova, è stato veramente il luogo, la sede dove si è avuto la possibilità di sviluppare un confronto e un dibattito molto molto concreto, molto stringente, su quelli che erano i temi più rilevanti, a partire nella prima fase dell'attuazione dei provvedimenti attuativi. Voglio, ad esempio, ricordare le linee guida sul bilancio sociale, le linee guida sulla raccolta fondi, l'adozione della modulistica dei bilanci, le linee guida sul coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli stakeholder dell'impresa sociale, cioè tutti quanti i provvedimenti nei quali era prevista l'espressione del parere del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e questo parere non è stato un momento puramente formale, ma si è lavorato insieme ai soggetti presenti all'interno del Consiglio. E il ruolo, la funzione di rappresentanza della rete associativa è emersa in maniera, direi, veramente in tutta la sua evidenza nel dialogo costante, in quel dialogo sociale che si è sviluppato con il Ministero del Lavoro e che costituisce un po' la cifra caratterizzante dell'approccio metodologico seguito dall'amministrazione nell'attuazione della riforma del Terzo Settore. Quando dico cifra caratterizzante della metodologia voglio fare riferimento al fatto che i provvedimenti attuativi, i documenti di prassi sono il risultato appunto di questo confronto costante con le rappresentanze del Terzo Settore che portano all'attenzione del Ministero. A volte su sollecitazioni del Ministero altre volte di iniziativa delle stesse rappresentanze una serie di questioni che meritano appunto un approfondimento, un chiarimento, una presa di posizione. E devo dire che nel rigoroso rispetto dei ruoli questo confronto è sempre stato molto proficuo. Tanto ciò è vero che poi come vedremo lo abbiamo ribaltato anche sul RUNS. Ma la rappresentanza, il ruolo di rappresentanza della rete associativa ancora maggiormente poi si è toccato con mano proprio sul tema della riforma dello sport, sul tema dei correttivi alla riforma dello sport. Ricordo appunto come eravamo nel 2021 quando la UISP assieme a tutti quanti gli altri EPS che al tempo stesso APS portarono appunto all'attenzione del Ministero del Lavoro una serie di questioni che a loro avviso, un avviso devo dire condiviso pienamente, necessitavano di essere approfondite con l'autorità sportiva competente, l'autorità ministeriale sportiva competente in termini di intervento sul decreto legislativo 36 per realizzare quell'armonizzazione fra la disciplina della riforma sportiva e la disciplina del terzo settore che poi fortunatamente è riuscita ad andare in porto appunto con il correttivo al 36. In quella occasione furono sviluppate delle riflessioni anche sul tema del decreto legislativo 39 quindi della disciplina, del rapporto fra il RUNS e il RAS, il registro delle attività sportive su cui contiamo naturalmente anche di poter con la disponibilità dell'autorità competente in materia di sport di poter continuare a sviluppare questi ragionamenti. Ecco, il ruolo, l'importanza della rete associativa si vede certamente in queste situazioni nell'avere, nel porsi come interlocutore qualificato nei confronti delle amministrazioni interlocutore qualificato in quanto esponenziale della comunità, delle organizzazioni appartenenti alla rete stessa e capace al tempo stesso di sviluppare un lavoro oltre che di analisi ma soprattutto di sintesi da portare all'attenzione o del decisore politico o della struttura amministrativa di riferimento. E questo lavoro di sintesi, questo lavoro, come dire, che parte dal territorio e viene poi portato, viene forma oggetto dell'analisi congiunta, noi lo ritroviamo ribadito su un tema più generale, più specifico, scusatemi, che è appunto la gestione del registro sulla gestione del registro unico nazionale del terzo settore e soprattutto su quelli che sono gli interventi possibili, da un lato i possibili interventi migliorativi della piattaforma, del portale informatico, dall'altro su quelle che sono le questioni che alle quali pure il Presidente accennava prima, della gestione dei procedimenti, dei rapporti con gli uffici delle regioni, gli uffici regionali del RONS stesso. In questa prospettiva appunto sono stati appunto costituiti dei tavoli di lavoro, ormai in forma stabile, attorno ai quali siedono appunto il Ministero del Lavoro, Regioni, le rappresentanze del terzo settore, i coordinamenti dei centri di servizi volontariati e per volontariato e per quanto riguarda l'applicativo informatico, le questioni legate all'applicativo informatico del RONS, Union Camere ed Infocamere, proprio per andare ad individuare tutte quelle che sono le possibili soluzioni migliorative, come fare appunto a rendere ancora più agevole e più funzionale questo strumento. Ma la rete associativa ha avuto una sua significatività anche su un altro versante durante questi anni di applicazione, vale del codice del terzo settore, vale a dire sul versante delle misure di sostegno finanziario. Cioè qui facciamo riferimento innanzitutto in prima battuta alla prima applicazione concreta che noi abbiamo dato, anche in quel caso facendo riferimento al dato fattuale, non essendoci ancora nel 2017, nel 2018, il RONS, non essendo ancora operativo il RONS, su una misura specifica il contributo per l'acquisto di ambulanze da parte delle organizzazioni di volontariato dove il codice del terzo settore prevedeva appunto come il processo di istruttoria e poi di raccolta e di presentazione delle istanze e poi di erogazione dei contributi potesse essere appunto intermediato dalle reti associative. E in questo senso per quelle reti che appunto operavano in quel settore abbiamo trovato una grande disponibilità ad agire sin dalle prime battute. Ma poi il ruolo della rete associativa è stato valorizzato particolarmente ed è stato un ruolo devo dire di grande aiuto e di facilitazione dell'azione amministrativa su tutta quanta la procedura riguardante l'erogazione dei ristori covid, ma abbiamo poi avuto una ben chiara esigenza di qualificare ulteriormente, di sostenere, di destinare risorse finanziarie alla qualificazione delle reti associative e come abbiamo fatto, come il Ministero del Lavoro ha fatto nell'ultima procedura, nell'ultimo atto di indirizzo dell'anno scorso, del 2022, quindi con l'avviso 3 2022, dove è stata la linea di finanziamento nazionale, 20 milioni complessivamente appostati, sono stati appunto destinati non al sostegno di attività progettuali, ma al sostegno appunto delle attività istituzionali, delle reti associative, affinché è in vista non soltanto del rafforzamento del loro ruolo di coordinamento e di monitoraggio nell'ambito della gestione del RUNS, ma nella prospettiva di avere anche delle reti associative che possano svolgere quella funzione importantissima secondo me di interlocutori qualificati della pubblica amministrazione nei tavoli di coprogrammazione in primo luogo e poi in coprogettazione, sui tavoli di coprogettazione, soprattutto attraverso i loro eniglienti ad essi associati e guardando poi il tutto in quello che è lo scenario che si apre, lo scenario del prossimo futuro, che è quello legato al tema dei controlli. Le reti associative nazionali, quelle di maggiore dimensione infatti potranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro sulla base di un decreto che stiamo sviluppando, potranno essere autorizzate appunto all'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti dei propri associati. Questo è secondo me uno degli aspetti più sfidanti per il futuro, perché se oramai noi possiamo considerare un dato acquisito, quello della rappresentanza della rete nel dialogo con le istituzioni, e lo consideriamo questo come dato acquisito anche alla luce della qualità dei risultati, dei prodotti, del dialogo che si sviluppa con la rete associativa, il tema del controllo è invece un terreno ancora da aprire, ancora da esplorare. Ma è questo il terreno probabilmente più sfidante, questo è il terreno nel quale si gioca molta parte della credibilità dell'intero sistema del terzo settore, perché capite bene che la rete associativa a quel punto svolge una funzione, ben chiaro, sia ben chiaro non esclusiva, ma sicuramente pregnante, una funzione di presidio di legittimità, una funzione cioè di attestazione che la rete associativa è chiamata appunto ad esprimere in relazione a quelle che sono le caratteristiche, a quella che è l'attività dei propri associati. La rete associativa autorizzata al controllo dovrà rappresentare, dovrà riportare gli esiti di questo controllo alle amministrazioni, agli uffici regionali del RUNS in primo luogo, dicendo che quell'ente effettivamente persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge appunto le attività di interesse generale, è del tutto in linea con quelle che sono le prescrizioni del codice del terzo settore ed è in regola anche con quelli che sono gli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNS. Quindi è appunto un lavoro che contribuisce assieme ad una serie di altri fattori, a partire da quello della trasparenza, contribuisce a creare o a consolidare la fiducia, un rapporto fiduciario per essere più precisi, fra gli enti del terzo settore e i cittadini e perché ovviamente nel momento in cui noi abbiamo un esito positivo di un'attività di controllo, è ovviamente acclarato dalla rete associativa, il cittadino si sente sicuramente a una maggiore, può fare affidamento su quella attestazione che è stata fornita dalla rete associativa, ma al tempo stesso anche si va a consolidare il rapporto di fiducia fra l'amministrazione che gestisce il registro e la rete associativa incaricata del controllo. Ecco, in questa prospettiva credo che il lavoro che attende le reti associative che intendono appunto candidarsi allo svolgimento di questa funzione sia davvero un lavoro particolarmente delicato ma un lavoro strategico al fine della tenuta complessiva del disegno di riforma del terzo settore. Grazie, grazie direttore, grazie Alessandro per la tua consueta chiarezza e per il tuo inquadramento e soprattutto per questi stimoli che noi dobbiamo cogliere con grande, grande attenzione. Passo la parola subito al professor Luca Gori, che so i nostri ritardi iniziali lo mettono nella condizione di non avere molto tempo perché deve ritornare in aula a lezione. Quindi professore a te direttamente, faccio solo questa battuta, sin dai primi incontri tra il 2017 e il 2018 tu sottolineavi sempre quanto l'approccio alla riforma del terzo settore dovesse essere, come dire, visto da noi con il piglio del ricercatore e l'intervento del direttore Lombardi credo che non faccia, tra tutte le informazioni che ha condiviso con noi, essere la rappresentazione plastica di questo. Quindi a te professore, a te Luca, ringraziandoti ancora una volta a nome di tutta l'associazione. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli amici della WISP presenti, buongiorno al presidente Tiziano Pesce, al direttore Lombardi. Io spero che mi sentiate bene perché ogni tanto ho delle interruzioni, però va bene. Ti vediamo, ti sentiamo molto bene. Mi dispiace molto non essere presente, questo lo dico perché mi avrebbe fatto enormemente piacere condividere questa occasione con voi, proprio perché oramai dopo tanti anni mi consentirete di dire che mi sento un po' parte di questo grande processo che avete messo in campo, effettivamente a partire proprio dagli esordi della riforma, cioè dalle prime battute, quando abbiamo iniziato a concentrarsi, a riflettere sull'impatto dell'attuazione della riforma del terzo settore. Quali riflessioni posso fare dopo la relazione del direttore Lombardi? Io mi sento appunto con il piglio del ricercatore, come dice il presidente Pesce, io mi sento di indicare due elementi di riflessione per la WISP sul tema della rete associativa, perché la rete associativa nel quadro della riforma del terzo settore svolge effettivamente una funzione di interesse generale, ma vorrei dire proprio di cerniera tra l'esercizio di, come dire, di una attività che è rivolta verso l'interno e quindi di rafforzamento della missione che la rete associativa si assume, ma anche verso l'esterno, e vorrei dire un'azione rivolta nei confronti delle istituzioni e quindi vorrei dire una funzione propriamente pubblica. In questo senso, come dire, è una funzione di interesse generale, nel senso che non è semplicemente una questione di organizzazione di un gruppo di associazioni sul territorio nazionale, cioè non è semplicemente la rete associativa, la regolazione di rapporti fra soggetti giuridici autonomi che operano sul territorio, è in realtà un patto che si stipula per definire il modo in cui la missione viene realizzata a livello quantomeno nazionale, ma il Presidente appunto ci poneva questioni e sfide di livello europeo che riguardano la rete associativa, e essendo proprio un patto che riguarda il raggiungimento della missione, noi dobbiamo prendere atto, e qui forse vi deluderò, ma insomma che è un patto che è costantemente anche soggetto al ripensamento, cioè cambiando le condizioni di contesto intorno a noi, cambiando le esigenze che si rilevano intorno alla missione che abbiamo assunto, anche il patto in qualche modo della rete associativa ha bisogno di una costante manutenzione, e questa manutenzione serve proprio per evitare che i rapporti si sfibrino, che le relazioni giuridiche si deteriorino, che non ci sia quel dinamismo, quella capacità d'azione che invece deve contraddistinguere una rete associativa, che appunto è presente su temi così cruciali. Ecco che da questo punto di vista tutti gli strumenti a partire dal bilancio sociale divengono strumenti fondamentali, perché diventano strumenti di autoriflessione sullo stato della rete e su quanto sia efficace quel patto rispetto alla missione che abbiamo assunto. Quindi una qualifica giuridica, una qualifica che in qualche modo razionalizza l'esistente, una qualifica che mette insieme 19 realtà regionali 118 realtà territoriali, ma che ha bisogno proprio di essere costantemente monitorata e di essere costantemente curata. La parte giuridica, di cui poi è quella di cui mi occupo io principalmente, è forse la parte più epidermica, più immediata, quella in cui poi si va a registrare all'interno di regole giuridiche qual è lo stato di questi rapporti, quali sono le esigenze di tutte le articolazioni presenti sul territorio. Questo mi sembra importante perché a volte mi capita appunto di parlare con alcune reti associative in cui si inverte l'ordine dei fattori, in cui si pensa che le norme giuridiche possono risolvere le questioni di fatto, cioè la ragione per cui si sta insieme. Invece il rapporto è esattamente l'inverso, cioè prima vorrei dire si è rete associativa e poi si assume la qualifica. Prima si definisce qual è la ragione per cui si sta insieme, il modo in cui si sta insieme, le relazioni che ci tengono uniti e poi si definiscono le regole che di questo patto costituiscono l'attuazione. Quindi questo vorrei dire assumere la qualifica di rete associativa anche all'interno del RUNS ci mette costantemente in discussione sul versante interno, mi verrebbe da dire, no? E poi c'è invece la parte di esercizio di funzioni pubbliche, vorrei dire. Ora, il direttore Lombardi ha introdotto il tema dell'autocontrollo. Voi sapete perché ne abbiamo discusso, abbiamo fatto formazione su questo tema, quanto io ritenga strategica l'investimento della rete associativa sul tema dell'autocontrollo. Non mi dilungo perché, come dire, già è stato detto quello che ti doveva dire, l'autocontrollo si configura come forse l'elemento, vorrei dire, il più importante patto fiduciario che c'è tra il potere pubblico e gli enti del terzo settore. Cioè il potere, in qualche modo, il potere pubblico riconosce l'adeguatezza, il potere pubblico riconosce l'adeguatezza degli enti del terzo settore nell'esercizio di determinate funzioni pubbliche. E questo mi sembra, come dire, che sia uno dei sentieri più interessanti di collaborazione tra settore pubblico e terzo settore che dobbiamo coltivare. E dobbiamo coltivarlo responsabilmente, quindi definendo criteri, definendo modalità, definendo forme di controllo che siano, come dire, le più efficaci, le più rispondenti al dettato normativo, le più imparziali, insomma c'è una, come dire, una cultura anche dell'autocontrollo da costruire, oltre che delle regole giuridiche. Ma io vorrei dire che sul versante dell'esercizio di funzioni pubbliche o di funzioni di rilevanza pubblica o di rilievo pubblico, io vedo la rete estremamente impegnata su due pronti che vi voglio segnalare come i più sfidanti, a mio giudizio. Il primo è quello della funzione di supporto ai tavoli di coprogrammazione e di coprogettazione, ma soprattutto di coprogrammazione, cioè la presenza delle reti associative nei tavoli di coprogrammazione con le loro articolazioni territoriali costituisce un arricchimento fondamentale del patrimonio conoscitivo di una comunità nel momento in cui programma le politiche di intervento. Voi sapete che così io ho utilizzato proprio nelle mie lezioni che ho fatto qualche tempo fa, proprio un avviso di coprogrammazione a cui un'articolazione territoriale della UISP ha partecipato in tema di interventi nel campo dello sport dilettantistico e dello sport sociale. Ecco, quell'esempio lì è a mio giudizio uno degli esempi più interessanti perché mette direttamente in campo la capacità della rete associativa di intervenire dentro i processi di programmazione su un territorio. Anche con una capacità d'aggregazione di altri soggetti che magari difficilmente se sarebbe potuto raggiungere. L'altro elemento che mi pare molto molto importante è proprio invece il sostegno e il supporto alla decisione politica. Questo io credo sia un ruolo che voi come UISP state giocando e sapete giocare molto bene. Probabilmente c'è un percorso e una consapevolezza da costruire anche nelle altre reti associative, ma è molto importante investire sulla capacità di interloquire direttamente con il decisore politico, di entrare dentro i processi decisionali politici, di riuscire a condizionare positivamente, voglio dire, i processi decisionali politici, cogliendone anche la complessità. Perché oggi un processo decisionale e la relazione del Presidente Pesce da questo punto di vista mi pare sia molto chiara, non si colloca più né a livello nazionale né a livello regionale, ma parte probabilmente dal livello europeo, arriva sui livelli locali e intercetta una serie di soggetti istituzionali che sono estremamente differenti. Penso al rapporto che una rete come la vostra può avere con tutti i soggetti che si occupano dell'integrazione sociosanitaria o dell'intervento sanitario sul territorio. Ecco allora che serve quella capacità di interloquire con tutti gli snodi dove si assume la decisione politica. Ciudo dicendo, la rete associativa richiede una grande capacità di investimento e di programmazione. Probabilmente non dobbiamo farci prendere neppure dall'ansia dell'output immediato, cioè di avere risultati subito e in tempi brevi, ma dobbiamo assumere la logica probabilmente di più lungo periodo, dell'outcome, di cambiamenti che vogliamo raggiungere. Per questo è necessario, a mio giudizio, un investimento in formazione, un investimento in ricerca, perché una buona formazione presuppone un grande investimento in ricerca, cioè l'essere riusciti a capire il contesto nel quale ci si muove e le sue tendenze evolutive. Un grande investimento nell'innovazione tecnologica, un grande investimento nelle relazioni istituzionali, nella capacità di creare relazioni istituzionali, un grande investimento nella capacità di costruire relazioni fra i diversi territori del paese. Una grande rete associativa è un grande fattore d'unità anche, è un soggetto che riesce a rifuscire quelle differenze talora molto profonde, talora molto dolorose, che attraversano il nostro paese. Ecco allora che la presenza di soggetti unitari che partono dai territori ma si proiettano a livello nazionale riveste anche una grande funzione da questo punto di vista, nel ricuscire i territori e nel superare le differenze. Da questo punto di vista quindi, vuol dire, buon lavoro non tanto per l'aver conseguito la qualifica di rete associativa, ma per l'investimento che l'acquisizione di questa qualifica porta ad una realtà importante come la vostra. Grazie. Grazie, grazie professore, grazie Luca. So che hai ancora pochissimi minuti a disposizione, quindi cedo subito il microfono al direttore Lombardi proprio per usare i prossimi minuti per un dialogo, ecco, tra di voi. Grazie ancora. Sì, no, secondo uno degli spunti che mi ha maggiormente colpito è questa tensione positiva verso la dinamicità del patto associativo. Ecco, quella è probabilmente la fotografia più chiara dell'essere rete associativa, di un patto che ha bisogno di una costante manutenzione perché il rapporto con il contesto esterno è sicuramente caratterizzato da una evoluzione costante di questo contesto e porta con sé evidentemente anche, secondo me, un altro profilo, quello cioè la dinamicità del patto associativo che si traduce poi nella varietà delle soluzioni organizzative che la rete associativa decide, no? Che le reti associative decidono di fare proprie per, in quanto più funzionali, al raggiungimento dell'obiettivo. Io lo ricordo, insomma, abbiamo ragionato con il professor Gori, con Luca quando ci siamo confrontati, quando è stato elaborato la circolare, la 2-2021 sulle reti associative. La difficoltà principale di fronte alla quale io personalmente mi trovavo era la estrema varietà degli assetti organizzativi delle reti, della natura delle reti. Ecco, probabilmente su questo tema forse proprio la rete costituisce uno dei terreni nei quali maggiormente quella esigenza di tutela dell'autonomia organizzativa dell'ente, dell'ente del terzo settore in particolar modo, deve essere salvaguardata e di qui poi anche la difficoltà, no? Nel fornire delle chiavi di lettura che da un punto di vista strettamente normativo poi siano rispettose di questa autonomia. Ecco, c'è sicuramente questo profilo. Credo a un certo punto abbiamo parlato proprio di un polimorfismo organizzativo come uno dei tratti maggiormente caratterizzanti della rete associativa in quella circolare che dà conto della varietà di queste realtà. E l'altra considerazione sulla coprogrammazione mi trovo pienamente d'accordo su questa lettura che dava Luca in quanto la rete associativa, secondo me, io l'avevo detto all'inizio, avevo affermato che la rete associativa a livello nazionale, diciamo, ha il suo terreno, ma anche a livello regionale, trova il suo miglior terreno di lezione nei tavoli di coprogrammazione perché ha quella capacità, grazie appunto alla sua composizione e grazie appunto ai suoi livelli di base, da un lato di rilevare quelli che sono i bisogni di un determinato territorio, di una determinata comunità, dall'altra di portare però questi bisogni, la rilevazione, la lettura di questi bisogni, di portarla a un tavolo di coprogrammazione riuscendo a fare una sintesi che gli viene, come dire, connaturato proprio in relazione appunto alla sua funzione. Grazie direttore. Luca, ci vuoi lasciare un'ultima considerazione, ultimi spunti? No, beh, cioè, parlare dopo il direttore è, come dire, è impossibile, cioè, come dire... Ti scolleghiamo e il direttore continua, ovviamente. Ah, ecco. Questo mi sembra corretto, no? Io voglio dire, appunto, che il profilo dell'amministrazione condivisa, lo sapete, a me sta molto a cuore, è probabilmente uno dei settori su cui occorre investire di più perché ci sono tutta una serie di competenze di competenze da costruire, di settori da esplorare e quindi, ecco, io mi sentirei di incentivare, ecco, di sostenere un impegno della rete su questi temi in una funzione così, che sia di progettazione, ma anche di supporto, di, come dire, anche offerta alle pubbliche amministrazioni di nuove chiavi di lettura, no? delle possibilità di intervento, proprio perché come rete associativa avete una visione che ha una pluralità di punti di vista, no? E quindi sono moltissime le amministrazioni che con la vostra presenza potete andare a sollecitare, da chi si occupa di sport, da chi si occupa di sociale, da chi si occupa di integrazione socio-sanitaria, di chi si occupa di sanità, ma vorrei dire anche di chi si occupa di cultura, perché, insomma, anche su quel terreno voi potete essere molto presenti. E credo che, appunto, con questa vostra funzione unificante sul piano nazionale potete aiutare a superare anche certe divergenze territoriali che ci sono nel ricorso a questi strumenti, proprio offrendo anche voi in un'ottica sussidiaria un supporto alla pubblica amministrazione. Quindi, davvero ve lo raccomando come uno dei terreni di intervento, insieme alla cura del vostro patto, del vostro patto sociale, del continuo approfondimento del modo in cui volete stare insieme. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie, professor Cori. Grazie, Luca. Buon lavoro a te. A presto, ovviamente. Grazie ancora. Direttore, possiamo abusare ancora per qualche minuto della tua disponibilità? Assolutamente, assolutamente. Allora, chiederei anche se ci sono considerazioni. Sicuramente in ognuno di noi questa mattina sono maturate tante idee. Abbiamo avuto modo di sottolineare, di condividere aspetti strategici, ma soprattutto tanti spunti, come era auspicabile, ma non avevo dubbi in merito per il lavoro che ci attende. Sicuramente anche tanti spunti per il nostro dibattito dell'Assemblea, ma sicuramente, ecco, tanti spunti. Non voglio arrivare già al termine dell'Assemblea, ma tanti spunti per il nostro lavoro dall'unidì in poi. in quell'ottica veramente di associazioni di promozione sociale, sportiva, rete associativa, no? Quindi senza virgole, senza tattini, senza congiunzioni. E con l'orgoglio che il nostro statuto, il nostro articolo 3, che riprende le attività di interesse generale del codice del terzo settore, è uno statuto che ci mette nella condizione di continuare, ecco, conquistare quelle praterie di cui parliamo da alcuni anni. Queste sono anche le considerazioni finali di Luca. Vi chiedo a voi, se c'è qualcuno, qualcuna, che ha voglia di fare, condividere con tutti noi qualche considerazione, questi minuti ancora, in cui abbiamo la preziosa presenza del direttore Lombardi. State rileggendo gli appunti. Tutti i timi, no? Spaventati, no? Tutti, come dire, abbiamo aggiunto, se non è un bel mattone, alla nostra costruzione della casa di consapevolezza, credo, questa mattina. Paolo. Paolo Belluzzi. Grazie. Grazie direttore, grazie al professor Gori, perché secondo il mio punto di vista, rispetto al percorso che stiamo facendo in tanti in questa associazione, siamo al nocciolo della questione, quindi siamo dentro una fase di trasformazione di una lettura anche politica del nostro movimento che ci ha costretto a alzare la sticella e, come ci ricordava il professor Gori, a ragionare in modo scientifico in un mondo dove siamo abituati a lavorare di sentimento, di passione, quindi dobbiamo mettere insieme la passione, l'adesione, il coinvolgimento, le feste ai bimbi e cominciare a metterci lì a studiare, a fare ricerca. Queste due robe qua non sono più rimandabili e ci pongono però un problema, perché se da una parte il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che a livello assolutamente personale rispetto all'attività che svolgo in WISP sento il mio Ministero di riferimento il professor Gori giustamente dal professor Gori ci dice c'è un appello a giugno bisogna studiare presentarci c'è l'appello di settembre poi c'è da presentare la tesina poi c'è da laurearsi c'è da stare lì con la testa e non so se siamo tutti pronti ma soprattutto non so se siamo consapevoli che c'è un momento nel quale ci dobbiamo fermare e vedere dove effettivamente le risorse che sono state evocate da professor Gori perché sulla ricerca risorse sul studio risorse sulla relazione politica risorse quindi ci ha dato tutta una serie di capitoli di bilancio sui quali ci si aspetta che uno dice qua ci metto to qua ci metto to qua ci metto to è un nuovo paradigma rispetto al nostro modello noi siamo ancora dentro una situazione di trasformazione profonda che abbiamo voluto quello del suppurimento delle leghe di attività in settori in strutture in grandi ambiti ci stiamo ancora lavorando stiamo ancora metabolizzando questa fase quindi mentre il nostro corpo associativo classico si rinnova ci troviamo di fronte a una sfida epocale siamo un nuovo soggetto per questo paese siamo un soggetto di promozione sociale impattiamo sulla vita delle persone non siamo ancora completamente rinnovati ma non abbiamo ancora tutte le risorse necessarie per poter fare le robe che sono imprescindibili io ho avuto modo 12-13 10-11 anni fa di partecipare a un bando del ministero del lavoro e delle politiche sociali uno dei primi bandi di quelli belli tosti ci è stato da lavorare tanto per portare a casa il risultato quindi questa famosa rete che si evoca bisogna che cerchiamo di capire se intendiamo la rete tutti allo stesso modo la rete è un soggetto di plastica o di cotone o di lana che può fare tante cose può raccogliere dei pesci può fermare un pallone dietro alla porta da calcetto può aiutarci a dormire a guisa di amacca può essere tante cose una rete ognuno di noi deve cercare di decidere che ruolo svolge in questa rete se fa il pezzettino se fa il nodo e avere lo spazio per poterlo fare cioè non c'è un pezzo della rete che vale meno di un altro essere consapevoli di essere rete vuol dire cercare di essere protagonisti in una fase dove non abbiamo le risorse che ci servono per fare le cose che dobbiamo fare e quindi ognuno di noi a casa propria comincia a scegliere in che direzione dare le priorità delle risorse poche o tante che ci sono perché va fatta sta roba la ricerca lo studio la relazione il rapporto il rapporto con la politica ne parlavo prima con il mio presidente di Modena il rapporto con la politica sui tavoli di coprogrammazione è una roba faticosa e si declina sul livello locale purtroppo mi volevi dire che potevo tagliare e ti ce ne hai fatto sì allora adesso perché non ho capito il polimorfismo è uno delle nostre caratteristiche e quindi chiudo è molto bello essere polimorfi ma è meglio che decidiamo se facciamo parte del mondo animale del mondo vegetale o di altre robe perché tutto questo polimorfismo rischia di allontanare la possibilità che questa rete abbia una struttura grazie grazie Paolo altri altri accogliamo eventualmente sì Enrichetta buongiorno a tutti io volevo dire soltanto una cosa noi siamo sempre stati in promozione sociale probabilmente molti di noi essendo sempre stati abituati a lavorare a testa bassa hanno pensato sempre a fare attività ma mai a capire che cosa questa attività ha in che modo deve essere percussioni sul tessuto sociale quindi penso che ce l'abbiamo nel DNA era logico che la trasformazione di WISP WISP sport per tutti con tutto quello che noi ben conosciamo con tutti i valori che la WISP porta dietro è logico che la WISP abbia fatto questo passaggio la cosa più importante è che in teoria la sfida del futuro come dicevamo prima come dicevate prima è quello appunto di far sì che riusciamo a raggiungere avere la funzione di autocontrollo avendo autocontrollo e raggiungendo anche questo obiettivo a quel punto sì che potremmo avere creare maggior fiducia sia WISP Stato sia WISP regioni sia WISP comuni ma anche WISP e cittadino è vero che noi WISP e cittadino questa fiducia l'abbiamo già raccolta sui territori la fiducia tra WISP e istituzioni c'è già c'è stata soltanto di andare a meglio organizzare secondo me e meglio gestire il lavoro che comunque tutti i nostri territori stanno già facendo grazie grazie Enrichetta Lorenzo bene intanto ringrazio sia dottor Lombardi che Luca Gori che è di Pisa quindi chiaramente per forza è bravo a dire il vero e di Lucca allora no a dire il vero e di Lucca a dire il vero e di Lucca poi lavora a Pisa insegna a Pisa Luca Gori lavora a Pisa e adottato allora no la cosa importante che volevo dire è che noi dal terzo settore per ora abbiamo subito tutti gli aspetti burocratici ora si apre le opportunità ma quando si apre le opportunità da soli non ci si può fare per tutta una serie di fattori allora primo la ricerca quindi riprendere i rapporti con i centri di ricerca noi abbiamo fatto un Libby Lab di sport per tutti dove abbiamo visto che le categorie economiche centri di ricerca quindi Università di Pisa di Firenze e Sant'Anna sono venuti a partecipare cosa che noi non avevamo abituati perché noi pensavamo che il nostro mondo fosse quello dello sport ridotto di enti di promozione invece ci sono tantissimi altri attori che sono interessati quindi primo centri di ricerca ci vuole le competenze primo secondo progettare progettare se noi allarghiamo il campo d'azione quindi in queste grandi praterie del terzo settore dove non siamo abituati ancora a lavorare perché ci sono delle opportunità grandiose noi abbiamo bisogno di qualcuno che progetta che sia competente che sappia fare le rendite di contazioni lo diceva Veluzzi prima ci vuole un lavoro allora cominciamo a ragionare anche su questo anche perché poi noi non bisogna rincorrere i bandi ma bisogna anche anticipare i bandi sapere cosa vogliamo dove vogliamo andare e con chi agire e poi promuovere verso le istituzioni quello che noi vogliamo non solo rincorrere i bandi cercando di fare azioni ma cercare quindi di anticipare e questo è possibile con la programmazione con la coprogettazione quindi questo è un altro settore di lavoro l'ultima cosa che voglio dire è che da soli non si può perché tutti i bandi lo vediamo e sarà sempre così chiedono i patrenariati chiedono i collegamenti e allora noi occorre riprendere in questo grande scenario del terzo settore con le associazioni storiche io penso all'Arcia le Gambiene ma anche associazioni nuove che si sono create sul campo dei diritti dei rapporti stretti cioè ricreare quella rete che ci può servire non solo a seguire progetti ma anche ad anticiparli quindi riprendere questo che poi siccome noi siamo anche soggetto politico questo sarà una rete che può servirci anche da argine a questa deriva scusate di destra che ci sta colpendo in questo momento quindi più siamo e insieme ce la possiamo fare grazie grazie Lorenzo Massimo ciao a tutti io sono Massimo vengo da Osta la realtà più piccola voglio dire della WISP però credo di poter portare un qualche elemento di riflessione ci sono alcuni passaggi che mi hanno colpito nelle relazioni alcune parole una analisi di contesto locale che possiamo riferire secondo me a due aspetti è stata data molta attenzione alla conoscenza da parte nostra delle nostre associazioni i comitati verso il contesto in cui operiamo e questo è un aspetto sicuramente ci serve per fare rete come diceva Loro Robani con le cooperative sociali con gli interlocutori istituzionali ma dall'altro lato dall'esperienza che abbiamo avuto col comune di Osta che credo si riferisse a quel cenno breve che ha fatto il professore sulla coprogrammazione noi dobbiamo fare anche un'analisi del contesto interno nostro cioè sapere quello che sappiamo fare noi perché secondo me al di là della grande capacità di studio che dobbiamo mettere in campo qualche competenza già l'abbiamo possiamo essere sviluppatori di diciamo di idee anche per gli enti locali che spesso ci vengono a cercare perché già nella nostra storia siamo portatori di esperienze cioè abbiamo svolto progetti nel nostro passato rivolti al sociale che oggi sono fortemente attuali sono fortemente nel campo dell'ambiente nel campo dell'educazione perché siamo sempre stati abituati a contaminare i contesti lo sport è l'occasione per aprire altri fronti sul campo dell'educazione sul campo dell'ambientalismo per dare risposte vedi per esempio la post pandemia partecipare con il dipartimento di salute mentale sono cose che facciamo da anni quindi il contesto locale lo dobbiamo conoscere facendo anche un'analisi di self risk no di self assessment non solo dal punto di vista di ciò che dobbiamo fare ma anche di ciò che sappiamo fare l'altra cosa che voglio dire è l'importanza della rete io vengo ripeto da un piccolo territorio si è usata la parola la rete da unità sul territorio serve a perequare le differenze non solo credo che per il management della nostra associazione da sicuramente anche continuità perché io vengo da un'esperienza piccola collaboriamo tantissimo per esempio col commentato contiguo vedo Patrizia di Ivrea cannavese questo ci ha dato dieci anni fa la possibilità di attivare nuove nuovi processi all'interno dello sport io mi occupo di sci vengo dallo sci da discesa in Valle d'Aosta non c'era lo sci di fondo grazie al al cannavesano abbiamo sviluppato lo sci di fondo oggi portiamo ragazzi che fanno parte del disagio mentale quindi collaborazione di SM abbiamo attivato all'interno di questo progetto che è nato dieci anni fa un progetto col dipartimento di salute mentale valdostano oggi pratichiamo sport nello sci di fondo con questi ragazzi e c'è un patto di collaborazione con l'amministrazione regionale il 17 ci sarà un convegno ad Aosta col comune di Aosta il sindaco Nuti è un amico del professor Gori e andiamo ad implementare un patto di coprogettazione che peraltro e veniamo all'opportunità di cui parlava Lollo dentro la coprogettazione abbiamo preso in gestione l'impianto più importante di Aosta che da impianto sportivo pala indoor e di Otto salto con l'asta è diventato un impianto per lo sport sociale ok questo è quello che vi voglio dire cosa porta la coprogettazione come trasforma lo sport se ci crediamo se ci crediamo possiamo portare queste cose sicuramente nelle vostre realtà territoriali ci sono esempi più importanti io vi ho voluto solo esemplificare queste cose e vengo al tema della continuità io sono a fine mandato ho ancora due anni vengo da una piccola regione sono dell'idea che dobbiamo mantenere fede al limite dei due mandati grazie all'esperienza che abbiamo avuto con il Piemonte stiamo cercando di portare dentro nuove risorse in Vare d'Aosta per dare continuità anche al management e alla leadership dell'associazione perché riusciamo a portare dentro nuove energie grazie alla vicinanza questo per me vuol dire la rete grazie 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 Massimo Alessandro a te proviamo a fare provo ad agganciarmi ad alcune considerazioni la prima si è detto rappresentante di Pisa fino ad oggi abbiamo sopportato più che altro gli oneri adesso si aprono le opportunità ok però secondo me le opportunità si sono aperte non da oggi cioè si sono aperte già dal 2017 io personalmente personalmente ritengo che alcuni 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 risultati alcuni benefici probabilmente non ci sarebbero stati se non ci fosse stata se non ci fosse stato già un codice nel senso che dal 2000 semplicemente guardando a quelli che sono tutte le misure di sostegno finanziario garantito dai fondi del ministero del lavoro sia a livello nazionale che a livello regionale e sotto questo punto di vista ognuno di voi nei rispettivi ambiti regionali può tranquillamente fare il raffronto fra quella che era la situazione delle risorse destinata al terzo settore in generale prima del codice e dopo il codice del terzo settore ma soprattutto l'aver portato l'aver posto il terzo settore al centro della riflessione l'averlo portato come dire l'attenzione anche del decisore politico questo è stato secondo me un meccanismo è stato un elemento che un effetto derivato dalla riforma un effetto derivato dal codice ripeto sul per esempio rimanendo in tema di ordinamento sportivo non lo so se non ci fosse stata una riforma del terzo settore se al tavolo del ministerio del lavoro le rappresentanze degli EPS della promozione sportiva e della promozione sociale si sarebbero sedute e avessero trovato come dire avessero trovato ascolto e confronto quindi guardiamo guardiamo questo ragionamento di prospettiva e in prospettiva mi fa piacere che si colgano appunto le opportunità credo che della riforma fino ad oggi siano state sviscerate siano state esplorate soltanto una parte delle opportunità che essa ci offre ed è una delle più che delle opportunità uno dei cambiamenti ai quali chiama tutti quanti noi è un cambiamento di mentalità che deve riguardare gli uffici che deve riguardare la pubblica amministrazione deve riguardare gli uffici che gestiscono il RUNS deve riguardare le pubbliche amministrazioni che intendono coprogrammare coprogettare ma deve riguardare gli enti del terzo settore in questo senso uno dei messaggi fondamentali è la creazione la creazione di relazioni il codice ci invita appunto a fare questo invita gli enti del terzo settore tutti dal più piccolo al più grande a uscire dai confini del proprio ambito delle proprie attività e provare a creare appunto relazioni con altre realtà presenti sul territorio proprio nella prospettiva di una migliore soddisfacimento della crescita del benessere delle comunità sul tema della amministrazione condivisa il rappresentante della regione Val d'Aosta ci ricordava come l'importanza di essere anche sviluppatori di idee ecco mi ricollego a questa espressione che dà molto l'idea della proattività del terzo settore per ricordare come nelle linee guida sulla coprogrammazione e la coprogettazione del ministero del lavoro il DM72 del 2021 il DM72 fra le altre cose prevede che la coprogettazione possa essere avviata anche su istanza di parte cioè può essere lo stesso ente del terzo settore a chiedere all'amministrazione di avviare un procedimento di coprogettazione portare cioè direttamente all'attenzione dell'amministrazione il proprio la propria idea sulla quale sviluppare la coprogettazione è chiaro e su questo voglio veramente essere molto molto franco non ce lo possiamo aspettare dall'oggi al domani c'è da lavorare questi sono processi di media durata di medio periodo però teniamolo presente consideriamo appunto anche questa questa prospettiva tema delle risorse è un tema ovviamente sempre presente che deve sul quale ovviamente la rete associativa poi deve fare una deve fare delle scelte in relazione a quelle che sono le sue priorità che intende perseguire ma anche sotto questo punto di vista voglio appunto ricordare come l'investimento che è stato fatto nel corso degli anni dal 2017 al 2022 a sostegno degli enti del terzo settore con le risorse ministeriali è un investimento che non ha avuto precedenti ripeto ragionando esclusivamente di quelle che erano quelle che sono risorse a regime ragioniamo di circa 61 milioni anni di poco più di poco meno poco più di 61 milioni di euro anni destinate alle organizzazioni di volontariato alle associazioni di promozione sociale alle fondazioni che poi hanno trovano una loro ricaduta non soltanto su quelli che sono gli interventi a livello nazionale ma anche su quelle che sono le risorse che vengono destinate a livello locale che vengono poi gestite dalle amministrazioni regionali e evidenzio come in due occasioni come ministero del lavoro noi abbiamo scelto poi una particolare modalità di sostegno che non era legata al progetto ma era legata appunto a sostegno all'ordinaria attività statutaria è accaduto in relazione all'emergenza covid dalle risorse covid del 2020 è accaduto l'anno scorso come ricordavo in tema di appunto sostegno alle reti associative quello è qui veramente mi taccio consapevole di essere l'ultimo ostacolo che si frappone fra voi e il pranzo cioè dobbiamo guardare alla riforma come ad un processo in divenire un processo in divenire che non è soltanto normativo è anche culturale e che chiama tutti quanti noi all'attuazione io nei miei interventi uso sempre la prima persona plurale perché non mi va di dire voi l'ente deve fare voi dovete fare voi dovete dire noi dobbiamo fare perché è un processo che coinvolge tutti nella consapevolezza che ci sono dei risultati che sono stati raggiunti altri che potevano essere raggiunti in maniera più veloce altri ancora che potevano essere raggiunti meglio ma che si vanno come dire a perfezionare si vanno a implementare nel corso del tempo con l'apporto di tutti grazie grazie veramente grazie grazie di cuore direttore grazie grazie alessandro è stata una mattinata per noi veramente proficua interessante importante grazie 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 grazie